un altro si è droppato da qualche parte un altro vip 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 dentro sempre fire a destra a destra vicino alla porta la uccidi è lì ti spostato capitavo gridlock una tacca una camera twitch entrata ving nell'ingolino sta togliendo la gu sta plantando sta plantando sta plantando occhio sotto bravo capric posso? trap capri davo lol lando aspetta attento gabriela tu a sinistra lì ancora 2 ho fatto non stato dietro saliera iniziali da Toro Lazio, Lazio, vicino al bagno ho c'era la camera da dietro morta Lazio, morto Lazio, morto Lazio, vicino al bagno dietro di Tani ok, buono bravi sotto, sotto di me ho paura di andarci io bravo ti copro la porta ti copro la porta hanno aperto hanno aperto arrivo io, camera mi strago un po' eh no, no, morto vita smoccano non sono dentro dentro i banner morta i banner morta i banner ok la sento ma no fuori 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 sento aspetta, tengo lo yokai vi dico io se entra 15 secondi 10 secondi mi pare scale scale dentro ma come? adesso adesso eh, bisogna evitare il ceruato eh, Flavio metto la flamore morta barcheria hell online vieni qua che apriamo arrivo ho culato sopra ok ci sono lancia un muro di vini non è rinfluzato notato lancia coprimi la guarda lì un attimo debra posto aperto morto legion sento gente che flanca mi sa eh no, forse l'ho ucciso te l'ho ucciso te l'ho ucciso te ancora gente forse lesion lesion stanzino gabry se riesci ad aprire la porta o qualcosa provo a usare la ruota piena ok io ho rotto una prova a ripassare dall'altro lato avrebbe avuto una tanta abbastanza magari ho un altro drone non riesco a passare qua tu main non ce n'è sfm eh, se dracca le giuro le giuro aspetta siamo in sacca di caudo riusciamo a tirare l'acqua uno è qua l'ultimo stanzino stanzino vai dai entra eh ok mamma mia siete devastanti mini hai fatto eh no così non va bene cambiamo eh ok raga è tardi raga è tardi sor sor bisogna aprire qua andiamo di qua morto lesion morto lesion info merda mira metà vita ping ping mira mira morta valkyrie valkyrie dov'è liberi davanti a te sì ho sbagliato io che le bianche sono io pulito il ping verso scale rosse mi hanno spottato mi hanno spottato mi hanno spottato ora il pianto è morto capitavo mi pare capitavo dimmi riesci a venire di qua a farmi la rotation qua dentro un freezer c'è qualcuno c'era qualcuno sulla nuova botola qui su questo c'è qualcuno sulla botola del balconcino raga non lo so ti guardo le carro atterrato uno ok dove c'è la botola nuova ok glas è di là dove c'è la botola nuova guardo le carro sono in due sono in due sono in due sono in due capisci mission successful occhiano a modulare nooo maria bella finite nate eh ho il defuser sopra nate ha scuoto 2 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 verso il eh tutto passo ma hanno rotto lo scudo qua da me si c'è qualcuno qua c'è una clamor devo pingat si c'è una clamor qua quale porta debbi? questa? si sto guardando lì io oh ho set in chamber meridian qui dopo ho concare eh l'ho missato per poco è andato verso lo stanzo è qua è qua debora è qua da me stavonata ma tonna che shot davanti no 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 quella sopra l'altra mordo sopra uno intermaitato eh lo so potete stringere il culo voi sono tutti in altri qualcuno scale non li guardano debbi eh uno scavalca per il bancone quale guardate guardate vedi o Capitao, faccio guai Forza un altro Bravi, bravi, bravi Number one random Uno è aterrato e Zofia è verso il tunnel Zofia è verso il tunnel Lo sta tirando su, mi sa Sono riuscito a cifattare Sono tutti e due nello sto vicino tunnel Poi sinistro com'è? Sì Bravi, bravi Ma fatta non morire col C4 Dollo, c'ho la cam lei Non ti ha visto, non ti ha visto No, 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 so, so Arriva Non l'hai fatto Morta finca, defuser Madonna come l'ho smirata Qua defuser Ok, arrivo a darti la mano Qualcuno sopra Sento un rumore Qua dalle scale Sì, ho preso un'altra Dalle scale Dalle scale, le scale Le scale quale? Le scale qua dietro Giusto? Erano delle scale Sì, quello lì, quello lì Sapete sanno ancora che l'essi? No No, ho visto Womai che stava andando in bagno Aspetta, aspetta Sopra Arriva Sono due sulle scale Provo ad andare sopra io Sopra c'è qualcuno Sono due sulle scale Guarda che si può Papà Oh Devi taccherare Dove sei? Minchia, troppo lontano Sopra c'è qualcuno No, arrivo Si C'è pulso Hanno pulso Si, è uscito Captain Non l'ho preso ma non l'ho morto Morto pulso Arrivo Arrivo Ping, ping 1 Vomai è salito sopra Drone, drone, drone Statta un drone È ancora esco È salito sopra allora Scala? Si Scala quella di Si quella di Stai guardando Eh, dietro il mobile che trovi Si Sopra c'è uno Tu Nini Se mi lo pataccia era qua Tu puoi tormentare Arriva Jäger Da corridoio Nobbi Non c'è un drone Dove siamo fuori Dove siamo fuori Jäger Si Non ho più droni Stattini, dovete dronare C'è anche Kapkan Ho fatto tutti i droni Scala va mai Morto va mai Morto va mai Uno qua Fatto capcan in sight in b a metà vita più o meno dovete drunarmi dovete dirmi qualcosa se no non lo so aspetta sto drunando nini vai vai entra entra il plato a frigo entra il plato a frigo b b verso bagno bagno in bagno a capca non so dove è wow è stato fucilato hai visto hai visto nini te l'avevo detto io se c'è il basso ne tiro giù la gente